Non voglio la solita Mercedes, no, voglio una classe E, 220, CDI, Blue Efficient, 170 cavalli, Coupé. E poi non la voglio del solito colore, voglio un colore che si distingue, un colore giovane, la voglio bianca, non il solito grigio ragioniere. E poi la voglio sicura che abbia meno di 24 mesi e in più che abbia una garanzia estesa fino al 2016 dalla Mercedes. E poi la voglio con navigatore, con cambio automatico, con la pelle, il farino seno, il LED, il sensore di parcheggio, il cruise control, i cerchi in lega. La voglio completa di tutto. E poi la voglio con l'iva esposta per poter fare un leasing o detrarre l'iva. Ecco, voglio questa. Grazie per la visione!